Qui abbiamo sedute le ultime due persone che hanno parlato, ma là mentre twittano e chiacchierano ci sono anche gli altri tre i quali non riesco a richiamare l'attenzione, ma questo sarebbe il momento per cui dalla narrazione che avete avuto fino adesso si passa all'esperienza attraverso l'interattività con queste persone, per cui fatene buon uso, mentre io sto parlando, sto aspettando essenzialmente di vedere se si alza qualche mano da parte vostra, perché i temi e i problemi che sono stati suscitati sono davvero molti, quale forma di partecipazione, povero cittadino, quale senso sia pratico che conoscitivo ha tutto questo discorso, sto parlando sempre per vedere se si alzano delle mani, eccoci, io sono veneto e il torinese un po' come noi ci mette un po' prima di uscire, una mano si è alzata e gli darei la parola, come facciamo con un microfono? Buongiorno a tutti, io parlo in quanto sono un funzionario di un'amministrazione comunale, io volevo chiedere a tutti quanti come si potrebbe fare per sollecitare gli amministratori comunali e quindi responsabili degli enti locali a preoccuparsi di questo aspetto, cioè di pubblicare dati in formato aperto, riutilizzabili, perché a me sembra che nonostante ci siano leggi, ci siano le ultime leggi che obblighino questa pratica, in realtà questo sia uno degli ultimi problemi negli amministratori locali, cioè almeno noi, io sono un informatico, io non ricevo stimoli sotto questo punto di vista, quindi io so che esiste questo problema che bisognerebbe fare queste pubblicazioni, bisognerebbe preoccuparsi di rendere disponibili i dati per tanti aspetti anche economici, però non mi sembra una preoccupazione degli enti locali attualmente. Grazie, preoccupazione o occupazione? Perché secondo me sono preoccupati, ma non tanto occupati o impegnati, che dici Guido? Hai sentito la domanda o twittavi? Twittavo, confesso. Allora, come si fa a spingere questi operatori della pubblica amministrazione a darsi una mossa e partecipare a questo fenomeno dell'apertura, anche quando non lo fanno spontaneamente? Siamo in casa dell'impiccato, allora parliamo di corda, insomma. La risposta è non lo so, nel senso che ho esperienze sia ottime che pessime, devo dire che sono di più le pessime, bruciano di più, sicuramente c'è una grande opera di accompagnamento, non vorrei dire di evangelismo, perché è una parola un po' forte, però Morando dice sì, evangelizziamoli, di persuasione, di moral suasion. Va creata, soprattutto in questa credo che noi giornalisti siamo fondamentali, una domanda pubblica, cioè gli enti pubblici, i politici, i decisori pubblici rispondono a una richiesta dei cittadini. I cittadini non vedono ancora l'utilità dell'open data perché è difficile da usare un dataset in CSV, non so neanche, lo apro con Word, dico che cavolo è. Noi possiamo mediare, però vanno creati dei, come dicono gli informatici, dei middleware per gestire queste cose. Sono dei middleware culturali e tecnici da creare. Il caso delle scuole e il sismico è stato un caso nel quale il giornalismo ci è fatto parte proattiva. Il caso delle scuole, sì, ce lo siamo, l'abbiamo preso un po' per passione anche perché abbiamo cominciato a pensarci da cittadini, devo dire prima che da giornalisti, cioè Elisabetta ha una storia di Friulana che ha vissuto il terremoto e guardava a una scuola e ha vissuto il terremoto dell'Emilia in prima persona e io e lei guardavamo a una scuola per i nostri figli in città diverse e ci siamo detti cavolo, le scuole ci sono 8 milioni di persone, 7 milioni di bambini, un milione di persone che ci lavorano tra insegnanti e non, stiamo parlando di 10% della popolazione italiana, non poco. Se vai a esplorare quello che abbiamo fatto come inchiesta, la risposta purtroppo di alcuni dirigenti è stata, ah sì, è una questione importante, però potrebbe essere angosciante e un po' pauroso per i cittadini conoscere questo dato. Appunto! va accompagnata molto. Insomma ci vuole tante cose, l'illuminazione di un leadership, questo ne è parte, è parte un po' il bastone che può venire da un buon sistema di inchieste sia di cittadini sia di giornali che facciano emergere una domanda di informazione perché ci sia una domanda di azione politica o amministrativa per risolvere dei problemi e sicuramente c'è anche qualche carota in più. Io mi domandavo prima se costa di più rendere aperti i dati o tenerli chiusi? fatto cento, si aspetta che sia preso. Sì, volevo aggiungere all'elemento della leadership che è fondamentale l'elemento della competizione, della concorrenza. Nel momento in cui un altro comune con cui tutti i confronti, Torino e Milano, un'altra regione, Lombardia e Piemonte, fa qualcosa di significativo la fai anche tu. Per non fare esempi sulle regioni o sui comuni in cui siamo a livello nazionale, il ministro Brunetta ha detto in tre settimane portale Open Data quando l'Albania ha fatto il suo portale Open Data. Cioè le nostre ex colonie fanno il portale Open Data, noi non ce l'abbiamo, no, conferenza stampa tra un mese. Quindi questo elemento sarà appunto di nuovo cinico ma può essere uno degli elementi. A proposito, le colonie degli italiani dove erano nelle palline di prima? Scusa, i quattro grandi imperi, ma dopo ci dici dov'è che si rivede? Perché era splendido. Volevo riprendere il punto che hai sollevato per la seconda volta sui costi, perché è una cosa che mi rimbalzano sempre gli amministratori e chiunque parli di Open Data e me la rimbalzano sia quando gli chiedo cose come giornalista sia quando gli chiedo come attivista che chiede appunto più accesso. Basta parlare di costi di questa roba. Siamo in un paese dove si parla di 60 miliardi persi per la corruzione. È una cifra gonfiata? Sì, è una cifra gonfiata. Lo dicono gli stessi che l'hanno prodotto. Dividetela per due, per tre, per quattro, non importa. Comunque la trasparenza e l'accesso generato a queste aperture coprirà ampiamente i costi. Sarà sempre a saldo positivo. Quella dei 60 è fantastica. Praticamente non c'è più nessuno che l'ha detto per primo e si sono solo rimbalzate le... sì. Io non vedo altre domande, è strano perché qui siete veramente coinvolti. Volevo solo aggiungere sulla questione perché tra l'altro faccio una piccola pubblicità se posso, se non posso non la faccio. A Trento ci stiamo ponendo il problema del fatto di aprire i dati e far capire il concetto. Tant'è che adesso abbiamo lanciato una challenge qua che dicevo se posso, in cui chiediamo alle persone che ci spieghino con un'infografica il concetto di open data. Ma al di là di questo, io penso che l'open data della PA, prima di tutto deve essere un momento di riorganizzazione interna per valorizzare quello che si fa. Se partiamo da quella parte lì, partiamo di efficienza, dopo ne guadagno tutto il resto. Poi com'è che devo essere guidato dall'apertura? Federico ha già spiegato più di una volta, io parto sempre, questo è un parlato da Federico e da Lorenzo, quando mi hanno detto approccio qui Canderti, tira fuori prima i dati che ti chiedono. Perché è già delle persone che li usano? Quando io parlo di OpenStreetMap, c'è una comunità pronta, l'Alto Ades l'ha fatto, ha fatto dei meeting, si trovano una volta nelle due settimane, discutono su questo e dopo trae beneficio anche alla PA che sta organizzando questi dati e li apre. Quindi c'è un paper bellissimo che parla delle 5 stelle, non della politica e neanche quelli di Tim Berners-Lee, di Tim Davis che è un ricercatore che lavora per DataGov UK, che parla delle 5 stelle, di come deve essere guidata la domanda dall'apertura dei dati. E la prima cosa che dice è essere guidato dalla domanda e l'ultima cosa che dice è creare conversazioni intorno ai dati. Bisogna creare strategia. Ho due esempi, quello di Vienna e quello di Firenze. Vienna, quando ha aperto i dati, il dato più scaricato in assoluto era dove sono i bagni pubblici a Vienna. Fa un po' ridere. Firenze ha aperto tutte le settimane vuole aprire un dataset, il dataset che ha aperto sono nei luoghi freschi di Firenze, che non era neanche un dataset primario, un dataset secondario perché è stata fatta una query sul database per tirarli fuori. Ma cos'è stato l'effetto? Che appena sono usciti questi due dati, che sono dati giocosi, le persone hanno iniziato ad andare sul sito, a scaricarli, a guardarli, loro hanno anche aggiunto degli strumenti per visualizzarli, sono nate applicazioni ed è nato l'interesse. Se riusciamo a far nascere l'interesse, e qua lancio una provocazione, riusciamo anche ad aiutare ad abbattere il digital divide. Altrimenti i dati sono pensati per le macchine e per gli esperti. Ma se riusciamo a far capire il significato, riusciamo poi a spingere molto più la società. Io faccio sempre un esempio, che i pasticceri ce ne sono tanti. Tanti sappiamo cos'è il processo di produrre una torta. Non c'è nessun problema, tutti quanti lo sappiamo. Però chi lo sa fare sono sempre pochi. Però l'importante è avere questa coscienza. Secondo me, quando apriamo i dati, dobbiamo andare a ragionare in questo caso qua. Miglioramento dell'efficienza interna e dialogo con le persone che lo usano. Ho fatto bene a tirare su un portrento, perché prima con De Gasperi l'avevi messa nei guai. Mi hai salvato la Ferrari. Eh? Mi hai salvato la Ferrari. Ti ho salvato. Paolo, volevi dire? No, beh, non posso che essere d'accordo sulla questione del creare l'interesse, andare verso, dialogare sulla base di queste cose. Però su questo vorrei anche dire una cosa che poi magari me la dimentico, ma la challenge, bravi, l'hanno fatta in tanti, sicuramente non basta. Cioè, quello è un modo che tra l'altro se non è sistematico, decare anche un po' nel suo senso, di farlo. Ma ci deve essere tutto un processo di costruzione di senso e di significato per un pubblico via via più largo, che chiaramente magari la pubblica amministrazione da sola non ce la fa. Possiamo dargli sicuramente una mano, noi delle istituzioni formative, che costruiamo quei profili che dovrebbero dar senso ai dati, lì possiamo coinvolgere, non si fa certo con... Cioè, la stessa sistematicità che si chiede, si invoca nel momento in cui si parla del backstage, dell'open data, la si dovrebbe riversare anche sul front end, perché se no... Faccio solo un esempio di una cosa che abbiamo fatto, magari un suggerimento. Il 3 ottobre del 2012, mi pare, il Comune di Milano ha aperto il suo portale open data. L'8 ottobre 2012 cominciava il mio corso che è dedicato alla formazione di queste cose, l'8 ottobre ho chiesto agli studenti, senza che avessero ancora preso gli strumenti per farlo a pieno, di fare la prima loro esercitazione, di farla scegliendo un dataset di questo portale open data. L'abbiamo fatto, ci abbiamo messo non mi ricordo quante settimane per arrivare ad avere dei risultati interessanti. Ho qui le date, 3 ottobre, 8 ottobre abbiamo iniziato, il 12 novembre avevamo prodotto, avevano prodotto loro ognuno una visualizzazione, quindi 54, se mi ricordo bene, visualizzazioni, le ho messe insieme, le ho mandate all'ufficio statistico del Comune che aveva aperto il sito. Il 16 novembre, quindi quattro giorni dopo, erano da noi in aula perché avevano visto delle cose a cui non avevano pensato e questo è stato il primo passo, abbiamo cominciato un dialogo, come è andato avanti? È andato avanti che ci sono oggi dei tirocinanti in modo sistematico dentro i loro uffici che li aiutano a fare già dentro un percorso di dar senso a quei dati e uscire con delle cose. Questo lo fanno i giornalisti, ma lo fa anche un po', lo può fare la pubblica amministrazione, quindi questa attività di interesse, di creare senso, di portarli verso, sono tutte operazioni che secondo me vanno fatte da tutti i soggetti, nessuno si può chiamare fuori anche da questo pezzo di lavoro. La challenge che abbiamo pensato a Trento, anzi, chiamarla contest, abbiamo chiamato challenge perché prima di tutto è una sfida interna, cioè la sfida è far capire il concetto di dati, dopo c'è una seconda fase che è quella delle applicazioni in cui noi stiamo chiedendo ai data provider che hanno aperto i dati sul sito dati trentinoit, gli stiamo chiedendo perché l'hai fatto, che aspettative hai e che applicazioni vorresti essere, perché vogliamo fare in modo che questi data provider si rendano conto di cosa vogliono e portano verso l'esterno questa cosa. Quindi noi accompagniamo questo contest in realtà su un discorso di cercare di sensibilizzare sul tema. È una challenge già questa di suo e quello che esce fuori già il fatto del concorso sull'infografica, dal mio punto di vista personale, non dovrei dirlo ma fa lo stesso, è a me non frega niente del risultato, del risultato verso l'esterno, mi interessa prima lavorare dall'interno, perché se riesco a fare in modo che le persone che hanno i dati capiscono questo significato, allora dopo ottengo efficienza. Abbiamo fatto insomma una bella risposta articolata al primo intervento che tra l'altro insomma mi sembra che nelle righe si spieghi anche quello che già Paolo ha detto prima, cioè non è che follow the money sia la soluzione, nel senso che non sono soluzioni già note, già espresse, già formalizzate quelle che riguardano, quindi il tema non è the money nella sua frase, il tema è follow, non c'è bisogno solo di fare, di seguire cose che sono già state espresse ma in molti casi le dobbiamo concepire, creare, individuare e poi seguono eventualmente le azioni. Come nelle aste una mano si è alzata pochissimo, ma io ne prendo comunque possesso. Volevo solo fare una domanda un po' a tutti e ragionare su un punto secondo me interessante perché poi è la chiusura del cerchio. Allora noi abbiamo parlato tantissimo di informazione e sicuramente ai cittadini dobbiamo dare informazione, l'ultima presentazione è stata assolutamente evidente sulla difficoltà di creare informazione, questo è un task, visualizzarla. Poi c'è un task che è più una consapevolezza, cioè io questa informazione oltre che produrla, renderla intellegibile, distribuirla, deve anche produrre una consapevolezza su un fenomeno, bellissimo il cerchio su Helsinki. Ma insomma ci sono moltissimi esempi. La cosa su cui volevo ragionare secondo voi come facciamo? Una volta che abbiamo creato consapevolezza c'è un altro problema che è un po' quello che ha citato Guido sulla scuola, che è un'esperienza che io ho vissuto sulla mia pelle molto da vicino, è una bellissima storia tragica, che è l'azione. Cioè nel momento in cui io creo consapevolezze molto forti, magari su temi scomodi, in questo caso il fatto che molti edifici scolastici sono insicuri, devo dare una risposta o comunque devo sapere che sto giocando un gioco con l'opinione pubblica, permettetemi se vogliamo un punto di vista un po' conservatore, però una provocazione, un gioco pericoloso con l'opinione pubblica perché ti sto dando una piena consapevolezza di un rischio senza poterti dare una soluzione. Di conseguenza, anche qui la faccio molto semplice, ristrutturare gli edifici scolastici in Italia costa dai 3 ai 4 miliardi di euro, più o meno i conti sono stati fatti, è molto complesso eccetera, però il punto è che il dato mi dovrebbe portare a trovare un modo per investire quei 3-4 miliardi di euro. Se questo non avviene, molto spesso oggi purtroppo il politico, il decisore, preferisce occultare l'informazione come la politica storicamente ha sempre fatto, per mantenere tra virgolette la pace sociale, per non portare scompiglio e scene per cui i genitori, per un rischio potenziale, perché poi ovviamente tutte le argomentazioni sono discutibili. Il punto è come facciamo a passare da, stiamo parlando, abbiamo parlato tanto di informazione, ok? Abbiamo un po' capito. Stiamo ragionando molto sulla consapevolezza, le data visualization, gli anni persi nella vita delle persone, però poi questo dovrebbe aiutarci o in qualche modo indicarci una strada all'azione. E come facciamo? Ah, visto che siamo anche in un contesto politico? Io chiederei, secondo me questa è una domanda anche centrata sull'etica e quindi tirerei fuori la risposta da Juan Carlos, che chiacchiera, non è una cosa... hai sentito la domanda? è una convenzione. È più rischioso dire alla gente che le scuole sono vagamente, sono tutte rischiose, non si sa, ma non dirgli quali sono rischiose, oppure è più rischioso dirgli che le scuole che sono rischiose sono proprio quelle lì e non abbiamo i soldi per ristrutturarle, più o meno. Io personalmente non so cos'è più rischioso, anche perché non saprei bene come misurare il rischio, però propendo comunque verso una trasparenza di informazione importante di questo tipo, dando gli opportuni strumenti, ma senza dire in maniera apodittica che non ci sono i soldi per ripararle. Perché? No, però veramente si è sentito anche prima, però in un paese come l'Italia che vuole essere 3G8 con 60 milioni di abitanti, dire apoditticamente che per le scuole non ci sono i soldi per aggiustarle, questo lo rimuoverei. Quindi andrei verso una trasparenza e cercherei di mobilitare effettivamente l'attenzione della politica in primo grado per intervenire con quale priorità, con quale gradualità, non lo so. La trasparenza è un valore che di solito vince nei confronti di altri. Volevo dire una cosa, noi non abbiamo detto, tutte le scuole italiane non sono sicure, abbiamo detto un'altra cosa con l'inchiesta che per brevità vi riassumo, ma in sostanza è questo, ci sono delle 20.000 scuole in zone a rischio eccetera. Il tema però che ci interessa a tutti come i cittadini è che queste scuole hanno avuto degli stanziamenti per i controlli, per le verifiche sismiche, sono stati spesi 10 milioni di euro, nostri soldi, e alcune di queste scuole sono sicure. Se andate sulla nostra mappa trovate le scuole che hanno il tag azzurro, sono sicure, hanno un indice di sicurezza di rischio sismico. Non l'ha studiato un designer come Ciuccarelli perché se sei vicino allo zero sei più sicuro che se sei vicino a uno. Quindi è un indice, no scusa è il contrario infatti, è controintuitivo. Però se sei basso, se l'indice di rischio è basso e sotto a 0,5 hai un problema, se sei alto invece sei più sicuro. Ok, quindi capito, già lì c'è un problema. Però stiamo parlando di risorse di cittadini che sono state date per controllare edifici in cui vivono 8 milioni di cittadini per 5 giorni la settimana. Credo che abbiamo il diritto di conoscere quali di questi siano state controllate e qual è il risultato di questi controlli. La mappa serviva a questo. Come giornalista per me il tema era, bene, se sono state controllate voglio saperlo e voglio sapere il risultato. Questo mi sembra più intuitivo. Se sono in zona sismica e non sono state controllate, come genitore, prima ancora che giornalista, voglio sapere perché non è stata controllata o perché non viene divulgato quel dato. Noi abbiamo anche raccontato la storia della scuola di Pieve di Cento in Emilia che aveva un indice di rischio barra sicurezza di 0,39 e che è crollata alle sette e mezza del mattino durante il terremoto dell'Emilia. Cioè se hai un indice sotto a 0,5 hai veramente un problema. Grazie a Dio non c'era nessuno perché era troppo presto. Però questi non sono temi in cui si può dire, cioè non è il caso Stamina con le Iene, non giochiamo con queste cose qua, giochiamo, cioè parliamo di un diritto civile secondo me. Da un lato volevo fare un esempio di caso in cui effettivamente c'è un problema sul divulgare queste informazioni nel senso che per esempio se ho delle risorse scarse da spendere e divulgo selettivamente informazioni su alcuni tipi di rischi è chiaro che anche la stessa scelta di quali dati aprire cambia le priorità, tanto più se sono coinvolti dei bambini, cioè c'è letteratura di Low End Economics sulla sproporzione incredibile che c'è tra l'investimento in sicurezza dei giocattoli, dove l'investimento è molto alto perché si rischia di soffocare un bambino in una piccola parte e l'investimento in posti in terapia intensiva, dove in proporzione l'euro investito salverebbe più vite. Però quello che ha già avuto un infarto è fatalità che muoia mentre il bambino non deve morire. Il che può essere giusto o sbagliato non lo so, però dico effettivamente l'informazione e la conoscenza si combina anche un po' con la psicologia e quindi l'esercizio è effettivamente complicato. Però lo stesso meccanismo che citavamo sulle, meglio non sapere, si può applicare alle buche nelle strade. Banalità, comunque le code tipo fix my street, cioè dai al cittadino la possibilità di far vedere dov'è la buca nella strada, la georeferenziamo e magari una persona del comune dice preso in carica, cioè ho visto, oppure c'è il counter, 50 me l'hanno segnalata, questa roba qua molti comuni non vogliono farla perché dicono io poi non ho i soldi nemmeno per verificare, per mandare la squadra, quindi effettivamente non voglio che si veda che lo so dove sono le buche perché non ho i soldi per aggiustarle, per cui anche a livelli molto banali e meno drammatici il problema un pochettino c'è. Effettivamente, però insomma tu hai agganciato questo tema anche al modo con il quale decidiamo dell'allocazione delle risorse scarse, quindi in qualche misura la trasparenza che Juan Carlos ci suggerisce di considerare come il valore di default, insomma come il valore principale, quello che prima di tutto prendiamo in considerazione perché da quella poi nascono le conoscenze che ci consentono di vedere quale può essere una decisione possibile, tu hai aggiunto il fatto delle compatibilità e quindi hai aperto la strada a dire che più trasparenza, più dati aperti significano anche probabilmente più necessità di modi con i quali decidiamo insieme delle cose importanti della convivenza e qui si apre tutto un tema che Malagnino ha già lanciato sui media civici, Malagnino nel senso che me l'ha detto lui, poi non so se era certamente un team anche lui che l'ha portato avanti, che proseguirà anche in futuro su questi argomenti. Siamo vicini al pranzo, forse è questo il motivo per cui nessun altro sembra essere interessato a intervenire, ma francamente sarei tranquillo anche se ce ne fosse un'altra, ma evidentemente non è così. E dunque chi prende le conclusioni? Finisci tu? Ok, vabbè, sulle informazioni tecniche appunto non sono qualificato. Direi che qui abbiamo fatto un giro culturale, politico, pratico nella nuova epoca, perché questi dati aperti non sono solo un fatto matematico e di trasparenza, non sono solo il fatto che posso andare finalmente a vedere quanto guadagna l'amministratore comunale, eccetera, che sono quelle cose che in qualche misura hanno reso anche banale e morboso il tema della trasparenza. In realtà qui stiamo dicendo, come ha dimostrato le inchieste di guido, il lavoro sull'apertura della conoscenza della ricerca proposto anche oggi da Juan Carlos, il fatto che le persone possano partecipare a raccontare il loro territorio con una logica che ha avuto un enorme successo per Wikipedia e che può diventare un modo con il quale raccontiamo la nostra terra con lo stesso stile e con risultati forse moltiplicati per la vita quotidiana di tutti noi e la ricerca, la ricerca umanisticamente, esteticamente ma soprattutto culturalmente e civicamente impegnata di Paolo Ciuccarelli. Tutto questo è un assedio culturale, pratico, organizzativo, economico al sistema della pubblica amministrazione che non può, come ci ha detto Federico, restare al di fuori da questo percorso e quindi credo che la domanda che ci è stata posta all'inizio, come si fa a convincere il singolo funzionario, la singola persona a partecipare, stia nelle cose della storia, succederà. Il punto è, io sono un funzionario che si interessa dell'epoca in cui siamo e della trasformazione che stiamo attraversando e del fatto che ne usciremo solo se ci trasformeremo e adatteremo la trasformazione a nostra volta. Oppure mi metto sulla linea della storia e cerco di dare un contributo perché che questa fase di passaggio incomprensibile, spiazzante, finisca presto.